Sicuramente l'arsenico può dare delle forme, in termini di concentrazioni, può dare delle forme tumorali, come no? Lo può dare sì. E mi meraviglio come mai la ASL e l'igiene pubblica non sapesse che tutto il salto di Quirra è una miniera di arsenico, quindi è una zona ricchissima di arsenico. Arsenico che oltretutto nei secoli in zona non ha dato mai nessunissimo dispiacere. In molti hanno pensato che l'arsenico fosse una scusa, infatti le analisi del comune mostravano quantità di arsenico nella norma. A questo punto l'ASL ha dovuto fare ulteriori indagini. Abbiamo fatto un'indagine epidemiologica e dobbiamo dire che lo sviluppo sull'emoprotumori emolinfatici non sono assolutamente così rilevanti come è stato detto. Il dato dell'incidenza dei tumori non è fuori dalla norma se rapportato ai 5.000 abitanti di Villa Puzzu. Diventa però allarmante se rapportato ai 150 abitanti della frazione di Quirra. Ma questa distinzione non è stata fatta da questo studio, che comunque non è stato l'unico. Infatti anche il Ministero della Difesa ha voluto indagare. Una strana e nutrita comitiva gira per il poligono militare di Quirra, in Sardegna. Ci sono scienziati, politici, militari e giornalisti, tutti in cerca di tracce di uranio impoverito o di qualsiasi altra cosa che possa spiegare l'alto numero di tumori che ha segnato la popolazione di Quirra, frazione di 150 abitanti a ridosso di bombe e bersagli. Le perizie dei geologi dell'Università di Siena per verificare la presenza di radioattività vengono fatte pubblicamente in un insolito sforzo di trasparenza voluto dal sottosegretario della difesa, CICU. Ma i campioni sono prelevati davanti ai giornalisti in zone del poligono poco congrue, come questa altura dietro un albergo, invasa dal gruppo di ricerca tra la sorpresa degli albergatori. Cioè voi successivamente avete deciso di approfondire? Abbiamo deciso di approfondire perché quel tipo di esame è stato individuato come limitato. Qui ho una mappa dove lei può verificare. Noi non stiamo valutando i confini del poligono, ma il monitoraggio va esteso in maniera completa e globale a tutti i paesi viciniori, a tutti i comuni viciniori per capire poi se eventualmente dal poligono si esce fuori e sino a dove arriva. Però questa è la situazione. Tutti gli approfondimenti sono in corso. Quindi io non escludo nulla peraltro, non voglio escludere nulla, perché anch'io sono in attesa di avere un minimo di riscontro e anche di comprensione, di certezza rispetto a questo percorso. Un altro sospetto molto grosso è sui sistemi radar e sul sistema missile antimissile Oc. Hai fatto delle indagini specifiche sull'inquinamento elettromagnetico? No. Però andrebbe fatta perché il salto di Quirra è costellato dai radar che consentono alla base operativa del poligono di seguire e intervenire sui lanci e sui radiobersagli. Sono strumenti potenti e molto sofisticati ed è impossibile paragonarli alle normali antenne e paraboliche. Mi risulta che anche diversi militari sono andati incontro a questo tipo di tumore. Allora, mio figlio si è ammalato di leucemia un anno e mezzo dopo aver finito il servizio militare a Quirra. Anche se ho fatto delle domande, lui non ha mai detto niente. Ho detto solo, secondo il ragazzo, quando facevano le esercitazioni, che c'erano tutti i pezzi grossi, senza capire il pericolo con il quale i nostri figli andavano incontro. Per loro era una festa, sbagliata però. Ma quanti soldi danno al comune per questo enorme territorio che vi utilizzo? Sto sbagliando, 700-600 milioni all'anno dovrebbero essere, sì. Ma questo è cash, pagamenti cash, ma lei non lo poteva valutare in questi temi nel ritorno. Sono nate anche delle bensie con delle malformazioni, doppia testa. No, doppia testa no, ne nascono in tanti modi. Senza orecchie. Sì, sì, ecco, c'è quella particolarità, che il fetto non si completa. Non si completa. È inutile girare le cose, i veterinari lo sanno queste cose. Dal versante interno del poligono si vede il paese di Escalaplano. Si dice che qui ci siano troppi bambini nati malformati. All'inizio credevo che fosse mia la colpa. Poi, come hanno detto i professori, da parte mia e da parte di mio marito, non c'è nessuna colpa. Cosa gli hanno detto i professori? Prima di tutto mi hanno rassicurato che non era ereditario. Poi che sarebbe vissuta pochissimo. Quanti anni ha? 15? 15. Ed è vero che sono stati molti casi? Nell'88 sì. Più o meno quanti? Io non, un dato preciso non glielo so dire, però ricordo all'ospedale che parecchi casi erano arrivati là. Senta, sua figlia è l'unica bambina che ha dei problemi in questo paese? Ma ce ne sono altri, non come Maria Grazia. Maria Grazia è proprio, diciamo che è il limite. Di più non ce ne potrebbe essere. Sono il genitore di una bambina che è nata con una malformazione alla mano. In pratica gli mancano tutte le ditta della mano destra. Ha solo dei piccoli accenni delle ditta. La bambina ora deve compiere 10 anni. All'inizio noi l'abbiamo presa come fosse un caso così, un caso qualsiasi, l'abbiamo presa in quel modo. Quando poi siamo venuti a sapere che nello stesso periodo ne sono nati altri, altri bambini, tutti. E allora la cosa ha cominciato a... Quando avete saputo che c'erano altri bambini? Cioè lo vedete, lo constatate perché siete nello stesso paese? Sì, l'abbiamo constatato in seguito, che ne sono nati altri con malformazioni diverse. Sono parecchie. Mi dà un'idea? Saranno una decina, una decina diciamo. Su quanti abitanti? Su 2.800 abitanti. C'è silenzio, silenzio dappertutto. Principalmente qui anche al comune. Però, se possono fare qualche cosa, anche per sapere da che cosa può essere, può anche darsi che sia anche colpa mia e i professori non l'hanno scoperto. Però, Maria Grazia non si può né difendere, non può parlare. E mi piacerebbe scoprire proprio. Scoprire cos'è successo nell'88 a Scalaplano, quando è nata Maria Grazia e gli altri bambini malformati, e cos'è successo nel 94, quando è nata la figlia del signor Artizu e gli altri bambini con gli stessi problemi. Non sono state fatte indagini scientifiche per ora. E comunque è difficile trovare una causa ambientale in questi luoghi senza industria e senza un'agricoltura intensiva che fa largo uso di pesticidi. Per questa ragione c'è chi guarda con sospetto alle attività del poligono. Lei mi conferma che non è stato mai sparato? Io le confermo che dalle certificazioni, dai riferti esistenti che risalgono ad un arco temporale di circa 15-20 anni, si rileva che non è mai stato fatto uso di munizionamento con un rano impoverito. Ho chiesto al Ministero della Difesa di avere i registri delle esercitazioni, non mi è stata data risposta. Quel che è pubblico è questo documento semestrale nel quale si descrivono sommariamente le attività del poligono, senza entrare però troppo nel dettaglio. Ma lei per esempio come sindaco avrebbe la possibilità di chiedere la lista del tipo di armi che vengono utilizzate? Io credo no, credo di no ecco, ma questo sinceramente non le so rispondere. Premesso che l'Italia non ha munizionamento all'uranio impoverito, questo munizionamento all'uranio impoverito è il munizionamento standard di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna. Sono paesi che vengono a fare le loro esercitazioni nei poligoni sardi. L'uranio impoverito è legale, purtroppo è legale, non può essere proibito l'uso dell'uranio impoverito. Davvero possiamo essere certi che le industrie italiane, a differenza di quelle statunitensi, inglesi e francesi hanno rinunciato a usare quel metallo solido di estrema efficacia ed economicità che è l'uranio impoverito? Nel 2001 un addetto alle munizioni di un deposito di armi militari, impaurito dalla vicenda dell'uranio, scrivendo al suo superiore lamentava che alla fine della missione di pace in Somalia, nel 1994, lui aveva manipolato senza alcuna protezione munizioni all'uranio impoverito rientrato da quella missione, specificando sigle e calibri. Cosa ci fanno delle armi all'uranio impoverito in un deposito militare italiano? E soprattutto, i nostri militari? In quali poligoni hanno imparato ad usarle? Potrebbe garantire ai suoi concittadini che non sono mai state sparate armi, per esempio, all'uranio impoverito o altro tipo di armi? Io questo come faccio a garantirlo? Mi scusi, io sono sindaco da poco tempo.